24 ore su 24 è convenienza. Convenienza è anche carburanti pensati per prendersi cura del tuo motore. Prendersi cura è accoglienza. Accoglienza è AnyStation. Scopri AnyStation, un mondo che si muove con te. L'associazione ambientalista ERA denuncia da tempo le conseguenze dell'estrazione di petrolio nell'area del delta. A causa del clima tropicale e dell'incuria, gran parte degli impianti sono aggrediti dalla corrosione e l'olio filtra alla superficie, uscendo dai tubi delle condutture, spargendosi come un velo sia sul terreno, sia nell'acqua. Lungo migliaia di chilometri di tubi e derivazioni si estende una ragnatela che è quasi impossibile controllare, anche dalle bande che fanno sabotaggi. Questo è il punto di fuoriuscita e là c'è tutto il petrolio uscito. Molta gente vive attorno a questa zona. Qui coltivavano e venivano a pescare. I militari e i tecnici intervengono nei casi più gravi di perdita, ma la fuoriuscita di petrolio è ovunque, segnalata soltanto dalla moria di pesci e uccelli. Rispetto, è una parola indispensabile. Noi viviamo a stretto contatto con il fiume, ci laviamo, beviamo e cuciniamo con quest'acqua mista a petrolio. È la sola acqua che abbiamo e ai nostri bambini provoca continuamente malattie. Qui c'è ancora l'olio fuoriuscito nel 2006. La Shell non ha mai fatto la bonifica. Durante la stagione delle piogge, tutto si allaga. Così il petrolio è penetrato nel terreno ed è arrivato alle abitazioni che si vedono laggiù. Con queste parole lavoriamo in più di 70 paesi per portargli energia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.